Ciao a tutti e benvenuti! Nel video di oggi andremo insieme a vedere ferro per ferro come realizzare questo bellissimo motivo. Guardate che spettacolo! Si presenta da un lato in questo modo e dall'altro in questo spettacolare modo. Questa è la parte rovescio che si presenta con questi bellissimi rilievi, paline a rilievo, che ci permettono poi da davanti creare questo effetto traffolato come potete vedere con dei rittangolini molto belli. Diciamo che la parte rovescio forse è anche più bella. Comunque questo è un motivo molto bello, semplicissimo da realizzare, molto adatto per i progetti estivi, primaverili e autunno in quanto permette di avere questo bellissimo effetto traffolato ma non esagerato molto fine, quindi è molto adatto per le sciarpi, ponci, maglietti, cardigan e tantissime altre cose. Il nostro motivo è un multiplo di 4 mali e di 4 feri, quindi noi ora andiamo a avviare le nostre 12 mali dedicate al motivo più 2 mali di vivanio, quindi in totale andiamo a avviare 14 mali, noi per l'avvio andiamo a utilizzare avvio alla nordica. Tutorial dell'avvio alla nordica trovate qui sotto nella descrizione del video dove vi lascio il link diretto appunto per il tutorial specifico oppure qui sopra mentre parlo nell'alto esce i video consigliati e cliccando sopra il link vi porta direttamente sul tutorial del video dedicato all'avvio alla nordica. Ed ecco qui abbiamo avviato le nostre maglie, ora in quanto noi ci ritroviamo dalla parte rovescio perché con l'avvio alla nordica si realizza appunto la parte rovescio e la parte diritta, lo capiamo perché vediamo le mali che si presentano a rovescio, noi dobbiamo andare quindi a fare questo primo ferro come la base della lavorazione per andare poi a trovarci sulla parte diritta tutto a rovescio, quindi dopo avvio, primo ferro di base, noi andiamo a lavorare a rovescio, la maglia di vivanio noi la spostiamo. Ed ecco qui, partiamo ora con il nostro ferro, primo ferro dedicato al motivo, in totale sono quattro. La maglia di vivanio noi la spostiamo e partiamo con le nostre prime quattro maglie perché il motivo è composto da quattro mali e da quattro ferri. Ora dobbiamo fare una lavorazione particolare in questo primo ferro sulla prima maglia. Guardate, teniamo il filo da di dietro come se dovessimo lavorare una semplice lavorazione a diritto. Entriamo nella prima asola, andiamo a estrarre la prima maglia e non facciamo cadere il filo perché dobbiamo andare a fare un gettato, rientrare nella prima asola e creare, estrarre un'altra maglia. Quindi da una prima maglia noi abbiamo estratto, creato tre maglie di cui due lavorazioni e un gettato. E ora per avere lo stesso numero delle maglie, successive tre maglie del nostro motivo, noi andiamo a lavorare insieme, diminuiamo e creiamo un'unica maglia. Quindi noi sempre abbiamo quattro maglie, perché il motivo è composto da quattro maglie, però le abbiamo lavorate in modo particolare. Dalla prima maglia abbiamo estratto tre maglie e successive tre le abbiamo unite. Vediamo un'altra volta. Entriamo nella prima maglia delle prime quattro maglie del motivo. Entriamo una volta, facciamo un gettato, rientriamo nella asola e andiamo a estrarre una terza maglia. Quindi da una abbiamo fatto tre. Ora per pareggiare il numero delle maglie, entriamo in successive tre maglie, insieme e contemporaneamente li diminuiamo e da loro tre estraiamo un'unica maglia. Ed ecco che abbiamo fatto anche la seconda. La stessa cosa anche con il terzo. Entriamo nell'asola, lavoriamo una maglia a diritto, andiamo a fare un gettato, rientriamo nell'asola della prima maglia, estriamo una terza maglia. Successive tre maglie li lavoriamo insieme, quindi facciamo una diminuzione. Facendo così manteniamo sempre il nostro numero delle maglie. Ultima maglia di vivagno, noi la lavoriamo a rovescio. E questo è il nostro ferro, primo ferro di andata. Ora, il nostro ferro di ritorno, noi dobbiamo andare a lavorare tutto a rovescio. Quindi ci ricordiamo il ferro di ritorno, vediamo tutte le maglie che si presentano a rovescio e le andiamo a lavorare a rovescio. Ecco qui, abbiamo fatto i nostri primi due ferri del motivo. Partiamo con il terzo ferro della lavorazione che avrà la stessica identica lavorazione ma con lo scambio delle mali. Quindi, guardate, noi ora dobbiamo andare la maglia di vivagno, spostare come prima e ora andiamo a fare una diminuzione subito all'inizio. Quindi sempre quattro mali in considerazione, però scambio. Quindi entriamo in prime tre asole di tre mali, andiamo a creare una diminuzione e ora, nel modo analogo, andiamo dall'ultima maglia a creare tre mali nello stesso identico modo. Due lavorazioni, un gettato. Quindi, facendo così, noi manteniamo il numero di tre mali, lavoriamo nello stesso identico modo, quindi non c'è un'aggiunta di lavorazione in più, ma scambiamo semplicemente la maglia dalla quale andiamo a creare tre mali. Nel primo ferro facevamo una diminuzione con ultime tre, qui invece facciamo diminuzione con prime tre mali e dall'ultima quarta maglia del motivo andiamo a ricavare tre mali. Quindi entriamo in asole di prime tre mali di quattro, facciamo una diminuzione in questo modo, quindi da tre ricaviamo una e dall'ultima quarta maglia andiamo a ricavare tre mali in questo modo e poi lavoriamo la nostra maglia di vivagno. Ora, il quarto è il nostro ferro di ritorno e noi ci ritroviamo sulla parte di rovescio. la maglia di vivagno spostiamo e successive maglie, tutte le mali di ritorno, quindi nei ferri pari, secondo e quarto, vanno lavorati a rovescio. ed ecco qui, una volta che abbiamo terminato anche il ferro numero 4 abbiamo visto come appunto realizzare questo bellissimo motivo. Ora non dobbiamo fare altro che andare a portare avanti per tutta la lunghezza e larghezza desiderata il nostro motivo portando appunto avanti questa sequenza di quattro ferri. Speriamo che il motivo vi è piaciuto, che siamo riusciti a spiegarvi bene tutti i passaggi. Noi ci siamo innamorati di questo effetto perché è davvero molto bello e abbiamo deciso di condividerlo con voi. Speriamo che sia tutto chiaro e che sia utile. Se non siete ancora iscritti al nostro canale iscrivetevi per non perdere tantissime altre novità in arrivo. In più ci potete venire a trovare anche su Facebook dove abbiamo sia gruppo che la pagina. Grazie a tutti per aver seguito e al prossimo video tutorial. Grazie a tutti.